buongiorno padre io vado al crasti crani silenzio io qui c'è da lavorare devo vedermi la trasmissione ragazzi ma avevano detto che ci avrebbero aspettati fuori già bobo io mi ricordo molto bene è vero ragazzi un attimo ma perchè sono così piccola giusto perfetto beh in effetti è un po strano io direi di andarli a cercare ragazzi perchè mick bone non si arrende mai mick guarda che tutta la squadra degli assoluti non si arrende mai bene allora che aspettiamo andiamo alla mia nave i cattivi ci fanno sempre quando rapiscono qualcuno andiamo poveri stupidi non sanno che il grande planto gli da la sua caccia ah 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 finalmente potrò uccidervi con l'oggetto di tortura che aveva inventato bobo e ranzo all'inizio ti prego noi io devo lavorare a questi cram io sono impegnato a non fare niente silenzio ragazzi io sento master light lì sotto che minaccia patrick e spongebob di ucciderli con la macchina della tortura che avevamo inventato oh cavolo questo è un bel problema bene andiamo sotto furti venite venite ehi arrenditi ah 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 il vero cattivo sono io plankton sì io avevo mandato master light ah 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 finalmente potrò costringermi star crema a darmi quella maledetta ricetta del crabby patty ah 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 il piano zeta lo adoro no tu presto vorrai solamente schiacciato ma prima sconfiggere un light prendi questo no troppo banale oh sembra così facile per te potere degli dei ma questo cos'era questo potere perfetto battuto aiutatemi c'è ancora lui ah giusto solitico capellone solitico capellone sto scherzando posso fare ben di meglio bravo bobo bravo complimenti ai miei cari assoluti avete messo in prigione anche oggi master light bene una sola domanda dove è capitano S a guidare la sua lamborghini beh ok quindi dai andate a fare qualcosa grazie andiamo a volare per altre avventure non riesco a volare non riesco a più volare ma cos'è ma cos'è ah ecco arriva anche io ah che bello e adesso sei in prigione tu ah ah si e stavolta non sarò l'allocco che ti facevo uscire sarò molto più cattivo che ti facevo uscire almeno che ti facevo uscire no ma cos'è direi non riesco a volare ma cos'è che ti facevo uscire che ti facevo uscire che ti facevo uscire che ti facevo uscire non riesco a volare